non so se si vede c'è scritto saluti da Bellaria e invece io saluto proprio Bellaria me ne vado e ovviamente vestito da ragionier Fantozzi Fantozzi e starò un po' di tempo insomma quando ho deciso ecco che cavolo è Spelacchio questa è la fontana di Trevi beato Trevi che è una fontana così bella e vediamo un po' quello che potrà succedere da queste parti insieme agli amici romani ci saranno 12, due romani ci sono due romani ho visto noi siamo di Roma perché tocca a bambini tre anni? poi guerra ha detto fare questo di latte il latte è morto non c'è e allora ha finito terroristi perché blocco testieri, blocco cervelli bambini paura eh nulla di organizzato proprio spontaneo così non ha capito niente questo perché questa non è la capitale d'Italia magari è la capitale della Cina del Giappone i personaggi che stanno a Roma sono qualcosa di fuori dal norvano ecco qua ciao rieccomi l'hai visto? il grande Victor Quadrini è troppo buono franco nero è sempre stato un mio internet è sempre stato ciao ciao sempre del mio amico Ivano per 4-5 giorni serò ospite suo è stato molto gentile questa che vedete è la reggia di Caserta sono appena arrivato fuori dal posto in cui alloggerò per un periodo big big girl è assicurato lei? thank you very much allora è tutto ci vediamo nel prossimo appuntamento di idioto tu come si chiama?